Grazie al coordinamento e dal supporto logistico della Ionica Multiservizi S.P.A., la partecipata di proprietà del Comune di Roccella Ionica, il meraviglioso Palazzo dei Principi Carafa si è trasformato in una gorà d'arte dove al suo interno hanno preso forma mostre d'arte di diversi autori. Tramito natura e contemporaneità è stato il tema della personale di Mariella Costa, opere realizzate in pietra locale, marmo, ceramica, calcestruzzo, fino alla più contemporanea realizzata in rete metallica, accolgono i fruitori al piano terra dell'antica costruzione gentilizia. Dipinti e sculture che ci inducono a riflettere sulla salvaguardia ambientale, sui migranti, sulle violenze sulle donne, sui grandi miti greci del passato, oppure ci trasportano in altre dimensioni che appartengono alla fantasia umana, al sogno. Opere di vario genere concepite in vari momenti artistici impreziosiscono la bella location e sono valorizzate al tempo stesso dalle sue suggestive sale espositive. Questa mostra collettiva raggruppa anche con sé vari artisti della provincia regina. Parliamo di Rosanna Bruzzese, Lucia Commisso, Serena Rullo, Manuela Scarfò, Luigi Scopelliti e Olga Smirnova. Tutti gli artisti che si sono uniti per cercare di far porre l'attenzione al simbolo, l'archetipo e tutto ciò che fa parte di quel mondo onirico che Carl Gustav Jung descrive come patrimonio incoscio e collettivo dell'umanità. A curare la mostra è l'associazione artistico-culturale Biloba, un'associazione tutta al femminile fondata circa un anno e mezzo fa che opera spesso nel territorio con vari laboratori e piccoli eventi. E poi c'è il velo che rappresenta il simbolo del mistero con conoscenza che ci viene celata. Come uno specchio, esso ci mostra un'immagine fittizia rovesciata della realtà che non ci permette di guardare oltre l'aspetto superficiale del mondo ed è proprio in tale superficie che l'uomo contemporaneo si nutre. Abituato a ricevere continui stimoli ed informazioni dall'esterno, egli dimentica che i segni più importanti provengono dalla sua interiorità. Solo attraverso la decodificazione dei simboli e dei segni che appartengono al mondo spirituale saremo in grado di svegliarci da quel lungo sonno ed entrare in contatto con il nostro io. Palazzo Carafa continuerà nel tema espositivo, dando grandi opportunità a tutti gli artisti che vogliono mettere in evidenza le loro opere.